Una vera e propria discarica abusiva all'interno del bosco. A scoprirla sono stati alcuni cittadini abituali frequentatori di una zona molto conosciuta per le camminate. La discarica è tra Genzano, Di Sassa e Colle Fracido, in una località conosciuta come Le Viarelle. Di abbandonato c'è di tutto, sanitari, materassi, ma soprattutto, cosa molto grave, l'Eternit di Grondaie evidentemente dismesse. Pensando di non essere visti, i soliti incivili hanno deportato la zona, un danno molto grave dal punto di vista ambientale.